8 anni fa Gigi Del Neri allenava Vincenzo Montella, oggi l'aereo planino è diventato pilota tra i più bravi nel nostro campionato. Attenzione posizione regolare, è partito Pasquale, Pasquale col pallonetto, il vantaggio della Fiorentina, gol dell'1-0, il capitano Manuel Pasquale. Mi è sembrato un gol troppo scolastico da prendere questo, perché Gonzalo Rodrigues non ha nemmeno fatto il lancio così preciso, perché non è stato messo sulla fascia, sui piedi. Jovetic dal limite, destro a giro, Sebastian Frey riesce a rispingere. Immobile, Rodriguez lo tiene, Immobile prova a girarsi, bravo, resiste alla carica, Immobile, grande giocata, entra in area di rigore, Immobile fino in fondo, Immobile salva il Viviano, incredibile! Che occasione, ma che giocata! Quadrado, la velocità del Colombiano, arriva l'Iaic a dare profondità, lo trova Quadrado, l'Iaic, l'Iaic, Sebastian Frey salva il Genoa! Possibilità per Jovetic, Jovetic vuole andare fino in fondo, Jovetic lo mette dentro, sta arrivando l'Iaic, grandissima risposta di Frey, che salva il Genoa, incredibile! Incredibile! Beh, questo è un miracolo! E con qualche secondo d'anticipo, dice che può bastare così Banti, la Fiorentina vince per la prima volta in trasferta in questo campionato.